quanti sanno quanti sono già informati sulle future strategie del milan a livello di mercato sarà solo una diciamo un rafforzamento figlio di giocatori giovani tutti sanno mentre c'è un fondo da londra e a casa milan dove caratteristica peculiare che abbiamo già scoperto in questi mesi di fondo elliot una caratteristica peculiare è il profondo silenzio eppure tutti sanno però una cosa mi metto anch'io sul carro di quelli che sanno qualcosa allora innanzitutto che la politica sia dei giovani a livello di base l'abbiamo già scoperto soprattutto se arrivasse ragni adesso tutti hanno scoperto che arriverà ragni noi l'abbiamo siamo sempre stati diciamo a livello di pronostico l'abbiamo sempre messo in prima fila come anche del resto i bookmaker inglesi che l'hanno dato sempre a 1 e 75 una quota sotto la pari chiusa questa parentesi con ragning si sa la politica dei giovani l'altro giorno ho messo l'elenco dei giovani ho messo un'altra volta dei giovani interessanti e sembra che il milan vada solo coi giovani e io sono d'accordo con chi pensa che coi soli giovani non si vinta invece vi dico un'altra cosa vi dico un'altra cosa un'altra cosa e non me la dico per caso una politica del milan della prossima estate della prossima campagna rafforzamento sarà certamente quello di tentare di ridurre ulteriormente di cedere i giocatori magari con gli ingaggi alti o di ridurre un po' il discorso degli ingaggi ma ecco che voglio arrivare al titolo di questa di questo video andare a cogliere le opportunità sarà un milan certamente base giovane l'abbiamo già capito ma state tranquilli che con questi chiari di luna a livello economici a livello economico sarà per tanti sarà per tanti la politica dei giovani solo che i tifosi del milan hanno una fortuna che la società visto che si legge che in germania potrebbero esserci 10 13 club in difficoltà una cosa è certa il milan a livello di proprietà è solido arrivo ancora al titolo sarà un mercato delle opportunità delle opportunità cioè cercare dei giovani interessanti ma ecco la differenza rispetto magari alla tendenza di qualche mese fa con 3 4 giocatori di esperienza presi grazie all'opportunità che può nascere dal prossimo mercato giocatori che magari vogliono andare via giococlub che non riescono magari a sopportare degli ingaggi molto elevati per buoni giocatori quindi mercato delle opportunità il mercato che è sempre stato una delle delle caratteristiche precipue anche nel milan di silvio berlusconi quando prese rivaldo quando prese ronaldino quando prese altri campioni appunto mi ricordo ancora il laudrup savicevic fu un'opportunità perché in quel momento voleva andare c'è fu il bayern monaco a piaceva molto al presidente berlusconi fame è andato a cogliere al momento importante al momento opportuno quindi sarà un mercato doppio con doppia visione datemi retta il mercato dei giovani giovani bravi giovani che possono aiutare ho fatto l'elenco dei giovani presi da ragnic a prezzi accessibilissimi che poi sono diventati campioni non andiamo a vedere se poi li venderanno ci penseremo dopo incominciamo avere i campioni qua quando sono qua poi ci ponemo porremmo il problema intanto sono qua e giocano qua e ci divertono qua poi vediamo facciamo step by step ma poi tre o quattro giocatori e gli obiettivi sono stati già individuati secondo dalle mie informazioni giocatori esperti per conglobare questa questa rosa mercato dei giovani a livello di investimenti cercare cercando di trovare dei giovani importanti che non costano ancora molto e il mercato delle opportunità perché non vedo ripeto poi vi presento e vi chiederò scusa se non sia così non ho problemi tanto ci vediamo tutti i giorni però sono un mercato proprio in duplice parallelo opportunità giovani per andare a un mix che è il mix vincente oggi tre o quattro giocatori importanti esperti però trovati a opportunità a opportunità con dei giovani interessanti questo è il mix sul quale punta il fondo Elliot speriamo io lo dico da tifoso del Milan con successo se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegatti